Il Governo è chiamato a rispondere in merito alla realizzazione del porto croceristico di Fiumicino. La vicenda torna prepotentemente d'attualità alla luce dell'interrogazione presentata dai parlamentari del PD Anthony Barbagallo, Widad Baccali, Andrea Casu, Valentina Ghio e Roberto Morassut, nella quale viene chiesto quale sia la volontà del Governo in relazione alla realizzazione del progetto del porto d'Isola Sacra e se possa altresì considerarsi conformi alla normativa della legge 84-94 e alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale l'introduzione dell'attività croceristica. I cinque parlamentari DEM chiedono poi ai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica se il progetto sarà stralciato dall'ambito delle opere essenziali per il Giubileo, non essendo realizzabile per il prossimo anno. Chiedono altresì se il costo dei dragaggi per mantenere in esercizio il nuovo porto sarà sostenuto dalla fiumicino Waterfront e se la sicurezza della navigazione sarà garantita tramite servizio tecnico-nautico con le stesse modalità previste per i porti delle autorità di sistema portuale, così come il rispetto degli articoli 16, 17 e 18 della legge 84-94. Nell'interrogazione viene anche sottolineato che le organizzazioni sindacali nel corso dell'audizione alla nona commissione della Camera hanno sollevato vari rilievi critici, tra i quali il più importante, riguarda una criticità nell'attuale regolamentazione che va assolutamente superata in tempi brevi al fine di evitare progetti e investimenti privati concorrenti o ancora peggio in contrasto con le politiche dello Stato. Viene infine rimarcato che l'impatto della funzione croceristica in un porto destinato a un traffico di 1.300.000 croceristi all'anno sarebbe prevalente rispetto alla funzione turistica dimensionata attorno ai 750 posti barca.